Qual è l'ultima promessa che l'hai fatta? Mi piace più sotto o sopra? L'ultima vertebra prima della nuca. In quello spazio c'è il mio chiodo. In quello spazio ci sono io. Io non ti ho chiamato. Forse ti ha chiamato il diavolo. Lo hai sentito? Lo hai sentito mentre ti parlava di te? E di come ti sei lasciato inculare dalla società? Quanti occhi ti hanno guardato? Sfiorato? Ciao! 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 Ti sei mai verso negli occhi di qualcuno? Correste che succedesse? Ciao! 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 Grazie a tutti.